ciao a tutti i prodotti terminati del periodo che sono un po tanti ci sono i detersivi visto che scuotono abbastanza successo food beauty e anche candele partiamo dai detersivi ho finito l'ammorbidente di windings mi sono tirato in faccia questa è la confezione quella salva spazio da un litro e 26 io uso sempre quell'altra nella fredda ho proprio questa ottimo 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 windings luce non mi abbandonare poi ho finito questo dea aromatherapy vaniglia e gelsomino piace un sacco due in uno dettaglio d'odore profumo all'aria ha un profumo buonissimo di vaniglia questo l'ho preso dai cinesi questo da tibetà o impresora mi ricorda poi ho finito il mio adorato napison che la condizione è quella più piccola da 1 litro 20 200 io lo addiziono sempre al detersivo visto che stiamo fuori nei nuovi pubblici autobus macchine batteri ovunque io lo utilizzo sempre e questo era il detersivo poi food 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 ho finito per quanto vuoi la colazione quando la cena non riesco a raccimolarlo colazione in barra spuntino riesco a raccimolare ho finito in casa blanca classic forte e saporito caffè è già istantaneo è già il secondo che finisco io lo addiziono lo aggiungo al latte e ci faccio il caffè latte poi bontanova white drink è il faxime del lactime che mio papà lo prende al penny market molto molto buono però la visione bianco che sono buonissimi quelli hanno yogurt molto molto buoni poi sto finendo non sto ancora non ho ancora finita candela profumata cioccolato amaro della re levi questa qua era la versione natalizia però l'avevo appesa da tivota mia mamma questa qui infatti ce l'ho sul comodino ha un sapore di cioccolato che voi non avete idea è fantastica ho finito vi faccio vedere adesso altre candele che mi stavo dimenticando infatti ho finito del tutto ormai la yankee candle alla vaniglia quella grande che adesso ho pulito e ci mettiamo in metto i pennelli ho finito la yankee candle alla vaniglia lime quella più piccina di questa non è la più piccola e poi ho finito vari due candele alla vaniglia che trovo in giro tra i cinesi tra quello comunque sempre alla vaniglia non mi ricordo penso che di aver trovato tutto ai cinesi mi sembra due una o due dai cinesi e ho finito anche quelle le cappe doveva essere qua dalla yankee candle e sempre la vaniglia che era questa comunque io li metto in questi bicchieri quelle che hanno lo stoppino quelle altre le uso con il bruciatore comunque la maggior parte di quelle che ho finito sono quelle alla vaniglia perché le altre le ho tutte accatastate quindi ho finito la maggior parte sono di base vaniglia poi beauty 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 ho finito ho finito le speedy care flushable moist toilet wipe sensitive della speedy care flushable sono quelle che io uso in bagno sono da 50 pezzi sono gettabili nei miei buccieri poi ho iniziato a utilizzare non ho finito però ve l'ho fatto vedere un video all in due labello quello soft rose e quello blackberry shine 24 allezioni con dente sulle labbra che è la nuova formula senza oli minerali e parabeni ci sono c'è anche quello visto alla ciliegia la pesca quello normale trasparente ci sono tutti con la nuova formula quella alla pesca da un colore arancione non mi piace quello alla ciliegia da colore rosso ma già questo da rosso e basta il rosa e il rosso vanno bene questi comunque li sto utilizzando per fare una accessione quindi tengo la tengo tengo poi ho finito l'acqua micellare dell'acqua alle rose struccante senza risciacquo questa qui della roberts mi piace un sacco poi ho finito la crema visual rivitalizzante idratante sempre l'acqua alle rose pelli normali o miste sono questi peccati molto fecchi mi è piaciuto un sacco più la crema che l'acqua micellare adesso ho ancora il tonico da utilizzare e poi ho finito come farmaco che poi non è farmaco perchè è omeopatico l'Ignazia Amara 5GH che è un medicinale omeopatico questo era il video dei terminati di questo periodo spero che il video vi sia piaciuto lasciate un commentino su quello che avete terminato voi iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video un grosso bacio ciao ciao